Anche in Urbino questa mattina centinaia di ragazzi stanno affrontando la prima giornata della maturità. La maturità 2021 che sarà differente una sola giornata, un'ora e trenta circa di durata del colloquio, con quattro prova all'interno e sarà presentato in elaborato. Sentiamo nei principali istituti della città il polso dalla voce dei ragazzi prima e dopo la prova d'esame. Si prospetta abbastanza bene, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista sia logistico che per i ragazzi. Un maxi colloquio, entrate scaglionate, come vi siete preparati? I ragazzi sono stati avvisati a gruppi di venire man mano a seconda della scaletta che viene fornita. Giulia, oggi è il giorno della maturità, una maturità diversa tutta in un giorno, come ti senti? Eh, c'è un po' d'ansia, comunque sono la prima dell'istituto in questa situazione, però dai c'è speranza di normalità. Il primo modo per tornare alla normalità è in presenza. Cosa proponi alla commissione, che lavoro hai portato? Io ho portato Vigoschi e lo sviluppo del linguaggio e niente. Dopo questa maturità cosa vorresti fare? Ah, ho deciso questi giorni e penso di fare scienze della formazione. Lucia, stai per entrare per discutere la tua maturità, quali sono le sensazioni? Sono un pochino agitata, però da una parte sono anche tranquilla, perché avere soltanto l'esame orale mi mette più tranquillità rispetto ad avere anche gli iscritti. Siamo al liceo scientifico di Urbino, quale lavoro hai portato per la commissione? Bauman e la sociologia della globalizzazione. Dopo questo esame cosa pensi di fare? Hai già qualche idea? Ancora sono molto indecisa, però stavo pensando o psicologia oppure scienze della formazione. Ho portato Freud, la psicoanalisi e la psicopedagogia. Vorrei continuare su questa strada anche dopo la maturità? Cambio perché vado a scienze motorie, però comunque rimango sempre sull'insegnamento, quindi penso di insegnare. Una formula diversa questa maturità, in un'ora e trenta si discute tutto quello che avveniva prima in più giorni. E riassumendolo questo ultimo anno tra apertura e chiusura, come lo descriveresti? È stato un po' difficile perché comunque anche da casa è più difficile seguire rispetto che in classe, però dai speriamo bene e niente. Speriamo vada tutto bene, ecco. Cosa stai provando in questo momento? Un po' d'ansia, però sono contenta di fare subito così poi inizia l'estate. Sei qui in attesa? Che emozioni stai vivendo prima di entrare? Sì, sono qui in attesa, sono tranquillo perché comunque alla fine sono arrivato fine fine, c'ho i crediti alti, quindi anche se va male riesco a superare tranquillamente. Sono tranquillo, abbastanza tranquillo, un po' di agitazione c'è, però con la minima minima. Che lavoro presenterai alla Commissione? Un video, un cortometraggio che parla dei punti di vista, l'architettura vista da un bambino, un cortometraggio di 3 minuti, 40, semplice, semplice, con tutti i vari collegamenti inerenti al video. Dopo l'esperienza qui a scuola hai già delle idee per il futuro, cosa vorrei fare? Vorrei lavorare nel campo del cinema, all'interno qua, infatti ho qualche riaverso una produzione di Urbino, che non posso dire il nome, è già un lavorettino. In più dovrò andare a Pesaro da un'altra casa di produzione per fare uno stage, quindi spero di lavorare. Sono iniziati gli esami di maturità in un formato totalmente diverso, un anno particolare questo? È stato un anno difficile, il secondo anno della pandemia. Quest'anno siamo stati più attrezzati, non eravamo sorpresi, e quindi siamo riusciti in qualche modo ad alternare sia l'attività in presenza che quella a distanza. E tutto sommato credo che arriviamo a compimento di una fatica condivisa con i ragazzi e con le famiglie, ma che credo che possa darci comunque delle soddisfazioni. I ragazzi come hanno vissuto e come stanno vivendo questo periodo, anche alla luce della maturità? Diciamo che l'esame coincide con la riapertura, con la rinascita potremmo dire, e quindi è vissuto anche come un momento di ripartenza vero, un po' come tutto quello che sta avvenendo per fortuna in questo momento nella società. Per cui è un punto di arrivo, ma forse più un punto di partenza e di ripartenza per loro. La prima maturanda del 2021, sei appena uscita, com'è andata? È andata bene, molto bene, pensavo peggio e dura anche meno di quello che pensavo, mi hanno tenuto dentro 35-40 minuti. Poi a noi ci hanno detto i nomi ieri mattina, quindi ho scoperto ieri mattina di essere la prima a avere l'esame. È molto semplice, è molto tranquillo, ci avevo molta ansia però è andata bene. Cosa hai portato come elaborato? Allora, come elaborato facendo cinema fotografia abbiamo dovuto portare un video, il tema era l'architettura e il mio in particolare era forma e colori nell'architettura e da lì ho poi collegato tutte le altre materie. Progetti per il futuro? Vorrei fare architettura a Cesena, però ancora sono in via di... ci devo pensare, insomma. Matteo, questo è il rush finale, tra poco entrerai, cosa ti aspetti? Beh, sicuramente mi aspetto di fare un esame giusto, insomma, delle mie capacità che ho studiato durante tutto questo ultimo anno e che vada al meglio possibile, insomma. Come ti sei preparato e quale lavoro, quale elaborato hai portato alla Commissione? Allora, mi sono preparato attraverso anche il documento del 15 maggio, in cui c'è tutto il programma svolto e ho ripassato tutte le materie e il mio elaborato tratta dell'architettura sacra. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro, intanto un colloquio per entrare in una scuola di cinema. Allora, in bocca al lupo, intanto qua ci sono già i tuoi amici con una bella bottiglia da stappare. Eh sì, speriamo bene, dai. Appena uscita dalla prova di maturità, una prova diversa quest'anno, Com'è andata e che sensazioni hai provato? Allora, ero nervosa, ovviamente, prima di entrare. Come tutti credo di aver studiato fino all'ultimo, anche stamattina. Mi sono svegliata presto e ho sfogliato libri e libri di appunti. Però durante la prova è andata bene. Ho parlato, essendo la prima, ero un po' facilitata perché tipo ho spiegato tutto e quindi erano anche forse più interessati di magari quelli che vanno dopo. Quale progetto, quale elaborato hai portato alla commissione? L'elaborato che ho portato era lo storyboard. Progetti per il futuro? Continuo la scuola per due anni, faccio il corso di perfezionamento e perché mi è piaciuta e desidero continuare il disegno. Luca, sei uscito da una manciata di minuti. Quali sensazioni hai provato e com'è andata questa unica prova ad esame di maturità 2021? È stata un po' una liberazione. Diciamo che l'unica prova ci ha un po' agevolato. Fondamentalmente anche perché la situazione non era proprio delle migliori. Quale elaborato hai preparato e portato? Io ho portato i trasformatori trifase e mi sembravano rimasti abbastanza contenti della tesina. Progetti per il futuro? Sicuramente andrò a lavorare. Hai già qualche... Sì, sì, sono già indirizzato verso dove andare a lavorare poi. Luca, stai per entrare. Cosa ti aspetti una volta avaccata quella porta? Ma comunque fortunatamente quest'anno i commissari sono tutti interni, quindi sono tutti i miei professori, quindi c'è già un clima di... Diciamo, ci conosciamo già, c'è solo il presidente che è esterno, quindi appena finita la scuola ho cominciato a studiare e speriamo bene. Ti sei vaccinato? Sì, il 2 giugno. Progetti per il futuro? Allora, a luglio parto per l'Erasmus in Irlanda per un mese e una settimana. E poi penso di iscrivermi a giurisprudenza, qui in Urbino. Bene, spero bene, credo. Cosa hai portato, come hai lavorato, come progetto? Il tramonto del patriarcato, si può dire? Sì, dai. Il tramonto del patriarcato. Progetti per il futuro? Giurisprudenza, Bologna. L'idea iniziale è quella, poi vediamo. Rebecca, se sei appena uscita, dici subito le sensazioni che hai provato. Allora, oddio, ecco, già così si capisce. Allora, lì per lì ero veramente ansiosa, tantissimo, però i professori sono stati abbastanza bravi, enormi, a rendermi sicura e niente, è stata una grande soddisfazione finirla e così. Hai un bel mazzo di fiori che ti hanno consegnato con l'uscita. Sì, sì, infatti non me l'aspettavo, quindi grazie. Quale elaborato hai portato per questa prova che è diversa quest'anno? Sì, allora, quest'anno dovevamo presentare appunto una nostra similtesina di un argomento scelto a nostro piacere e io ho approfondito il valore della tenacia. È un po' complicato, però ce l'ho fatta e così. Lei ce n'è voluta molta di tenacia. Sì, molta per essere la prima del classico, primo giorno. Esatto. Progetti per il futuro? Vorrei provare medicina, infatti tra poco comincerò a studiare e speriamo di entrare perché mi piacerebbe proprio farlo. Però ti godrai anche un po' l'estate, la sensazione di libertà c'è. Ovvio, con il fatto che sono stata la prima, adesso mi godo qualche giorno di vacanza vera e propria e poi vediamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.